musica 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 oddio non ridere non ridere non devi ridere apri il tuo chakra da messa la capa ma perché è morì musica riscia sotto preparati l'arma l'arma fotogra ah ah lascio 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 poi c'è un blocco quando salti lì qua guarda questo è poco bufatissimo modere le donne modere le donne non è molto swag guarda vabbè ci vediamo dopo ahhh il crimio mai 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 noi sono una mazzamana a più schiattate ok non 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 Grazie a tutti.